Ebbene signori, oggi andiamo a vedere le docce italiane nelle autogrill per turisti e camionisti. Per fare un bel lavoro abbiamo con noi asciugamano, deodoranti, svelto, shampoo e dentifricio. E per chi si domandasse cosa ci faccio con lo svelto è al posto del bagno schiumagente. Ciao, scusa, ho pregato che hai la doccia. Hai aperto? Ah, grazie. Qui siamo nel lusso, gente, qui siamo nel lusso. E anche l'attisola automatica. Cioè addirittura abbiamo il foro per asciugarsi e lo specchietto per dopo per vedere se siamo belli. Buono, buono. Va bene. La doccia mi sembra molto, 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 molto ok. Mi trovo un appunto che non ci sono né asciugamani, né lo shampoo non c'è niente. Io mi metto qua di portarmi lì. Eccoci.